Oggi come potete vedere siamo in Duomo a fare una bella gita scolastica Siamo a scuola, abbiamo biciato la scuola, abbiamo le cartelle pure Adesso prendo una bella nota per fare la mamma mi picchia Ci sospendono Tom, un uovo con un personaggio nuovo Questo qui raga Questo è il nostro nuovo personaggio Oh mia bella madonina Ciao, sono Luista Che cazzo di... Vuoi Pikachu? Oh, Pikachu? Sei con te, oh? Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Degli Street Gorilla Oggi siamo in una palestra a fare un allenamento estremo e pazzesco Alla K-Body di Milano Un allenamento di calisthenics Ma che cazzo c'è? Ma che cazzo c'è? Ma che cazzo c'è? Beh ragazzi Siamo qui con Emin Fitness ragazzi Ciao a tutti Sono per chi mi conosce già il mio fitness E oggi come vi diceva siamo qua a fare un allenamento di bodybuilding O calisthenics Ma avevamo detto... No bodybuilding calisthenics è uguale Lo sfidiamo, lo sfidiamo Mi faranno i sorcieri... Io ho solo le basi che mi ha dato Miletto Quindi... No, quella è la mano Scusate Convergo, perdonami Non sanno quello che dicono No, ci siamo Ma ci stanno un giorno con le basi E niente, siamo qua in questa palestra E nulla sul mio canale trovate una montagna di video di alimentazione, allenamento Mi piace parlare un po' in generale di fitness E' chiaramente... Il mio primo video tra l'altro ricordo che il primo video che ti ho visto era un video di integratori Tipo i migliori integratori per la massa Sì Perché c'è l'azzarangolo qui in copertina Allora tutti... Eh beh, è normale No, però dà veramente ottimi consigli Anch'io lo seguo spesso Seguitelo, eh Un bel esperto del fitness, diciamo Sì, poi ecco, io ho il mio lavoro in coach online Quindi ovviamente lo faccio poi per chi vuole fare coaching Anche voi lo fate Sì, sì Esatto Diciamo che siamo colleghi anche in quello E poi anche bello grosso, eh Non pensavo dal vivo Ma da me è piccolo Eh, ve lo dicono tutti che sono grosso Sì, è vero Bello grosso dal vivo Ve lo spesso Va bene, andiamo su a allenarci E ovviamente li ringrazio per ospitarmi sul loro canale E speriamo di divertirci oggi Esatto, sì Divertiamo Bella Guardate Emil alla prova del tapirulant Vai, vai, vai Manetta Vai, vai, vai Sì, beh Vai Partate Volt, Emil volt Come fa il quartiere i menischi qua Da freddo Questo qui invece è un tapirulant diverso Perché basta correre contro questo E simula un po' la corsa con un papadino Allora, primo esercizio Pull up Ti che comincia di noi Io Cominci tu Vai proprio io Così mi dite come va Ok, vai Boom Perfetto Perfetto Grande La potenza c'è Vai fighetta Vai Che minuccia Tipo stai dormire Stanno facendo i video Noi abbiamo fatto Cosa vuoi dire Io Vai 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 È l'ultima serie andata Eh sì Adesso facciamo la panca E vediamo un po' come si è messo in panca È Mosul È Mosul È il turno di Emil adesso Per la panca Attenzione Due Uno Dai Uno Dai che è tutta il tuo Dai che ce l'hai Ce l'hai Ce l'hai Banca per pesi Facciamolo ridere Siamo voluti per andare a Civitera Vai Chi cazzo sono Bastardo Emil Ci ha messo 80 kg di panca Qua sta uccidendo Per lui è facile No Per noi è tocca Un puntano 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 Vai 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 che sei una bestia Prossimo esercizio Rematore Ok Ti inclinio Te lo senti Grazie Guardami Guardami Allo specchio Schiena Guarda la schiena Dritta Nuro in fuori Questo reciso Qui non l'avevo mai fatto E' Molto difficile Anche tecnicamente Bisogna stare attenti Anche a Esatto Proprio quello Questo macchinario Per i calisterici E' una vergogna Ma davvero E' una vergogna Per un calisterico Sarà vergogna Sì questo qui ragazzi Questo qui Certo Lo scarico Ma si può fare Trope denti Esatto A casa devi andare A casa Ti l'ho un pelo più Tese le braccia Appena appena Così Il petto gonfio Ragazzi In pump C'è una vergogna Com'è o Sono stanco Ma vabbè Sono fermato Sono fermato Fan dei cari street Abbiamo deciso Di chiudere Con un esercizio Per i bicipiti Non so Le robe da me Ma ogni tanto Lo faccio Facciamo Curl con manure Sì Vai vai Ssss Ce l'è scoppia Allora ragazzi Gli sto facendo Vederlo Zotman Che è figo Perché allena Anche gli avambracci In maniera completa Si sale E poi si fa Questa rotazione Fino a qua E si scende Ruoco di nuovo E salgo Bello E se voi continuate A farlo Dopo 7 o 8 Vi bruceranno Anche gli avambracci Appena dopo la metà Così Così Tac E giù Perfetto Sali Fermi Giri Senza passare Se hai le canne Nell'acqua Si Si Buon workout ragazzi Shakerata Shakerata di proteine Gusto Gusto banana Isolato Sempre banana Mamma mia È un camoroso Sei È fantastica Ovviamente sto scherzando Adesso è mio turno Prendo anche le proteine Però io A cioccolato Non banana Cioccolato Cioccolato Bene ragazzi Bellissima giornata Insieme a Demi Ci siamo divertiti Siamo allenati Stato veramente bellissimo Conoscerti E Fare lo stesso per me E grazie di avermi Ospitato sul vostro canale E ci vedrete di nuovo Insieme Sicuramente Quando fanno L'inaugurazione Cercherò Di tornare Siccome Magari Non lo sapete Vivo a Malta Quindi Devo prendere gli aerei Però Lo spediamo Lo spediamo Quindi ci vedrete di nuovo insieme Anche probabilmente Alla Remini Wellness Assolutamente Io purtroppo Non farò lo stand Come pensavo Però sarò lì comunque A Gironzolare Quindi Ci vedremo Ci divertiremo Emil Fitness Iscrivetevi sul mio canale Se ovviamente Vi è fatto piacere il video E se volete Dei contenuti Su alimentazione E quant'altro E basta Non dire un po' più Ah molto importante L'altra parte del video La trovate sul suo canale Ci sarà un bel motivazionale Certo sì Loro hanno fatto il video E io faccio il video Un po' a modo mio E ovviamente Il video è insieme Quindi Esatto Quindi mi raccomando Vi iscrivetevi al suo canale Al nostro E cliccate il tasto like Ciao Ciao ragazzi What's up You're in the Thenx Fitness Studio I want to say a shout out To Street Gorilla See you guys out there In Italy Thank you so much For coming Big shout out To all my friends Fans Everyone that supports Street Gorilla Keep training hard guys Keep going on the channel Stay focused Stay hungry Muscle partner Stay huge Muscle partner